Mettere in sicurezza la città di Cento e il suo territorio. Il territorio che negli ultimi anni ha registrato gravi insufficienze a livello idraulico. E' questo uno dei compiti del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, al lavoro con un progetto ereditato dal Consorzio Vecchio Reno, partito prima del 2009, ma che negli ultimi anni ha ricevuto un impulso importante. La città di Cento si trova in un catino, circondata da zone alte che riversano grandi quantità d'acqua in maniera rapida nel centro urbano, che poi fanno fatica a defluire. La causa di questa sofferenza deriva principalmente dal deflusso verso valle delle acque delle terre alte circostanti che vengono anche da territori molto lontani, fin da San Giovanni in Pessiceto. Dal flusso delle acque provenienti dalle terre alte a ovest della città, che in assenza di una canalizzazione, perché nel tempo questa è stata inurbata nell'ambito del tessuto urbano, corrivano direttamente nella rete fognaria e quindi intasano la rete fognaria e poi dalla capacità quindi della rete di bonifica di poter smaltire le acque meteoriche che vengono recapitate, in questo caso tramite la rete fognaria. A penalizzare ulteriormente la situazione è ciò che si registra nel centro urbano di Cento, dove lunghi tratti di canale sono stati chiusi sotto le strade con scarsa possibilità di manutenzione. Se analizziamo immagini fotografiche, aeree o anche satellitari dello sviluppo urbano di Cento, come avvenuto in diverse città della provincia di Ferrara, in diversi comuni della provincia di Ferrara e nella città di Ferrara stessa, vediamo che a partire da piccoli paesi che si configuravano all'inizio del Novecento come veramente centri storici e poco più serviti dai canali di bonifica che tenevano a riparo il centro urbano dalle acque circostanti, a partire dal dopoguerra l'espansione urbana è stata molto rapida e spesso disorganizzata o quantomeno non attenta, come invece è adesso, all'adeguamento delle reti idrauliche di servizio. Per cui, proprio nelle immagini aeree e satellitari, si vede come i canali di bonifica pian pianino sono stati inglobati nelle aree urbane e tombinati, quindi chiusi sotto il piano stradale, perdendo gran parte della loro efficienza. La causa principale di questi allagamenti è da ricondurre al disarmonico sviluppo degli insediamenti urbani. La perdita di ufficiosità del sistema idraulico dipende da una singolarità del territorio centese dovuta alla sua collocazione rispetto alla conformazione altimetrica dei terreni e dei dintorni, dipende dal progressivo e inarrestabile sviluppo del territorio, della parte urbana del territorio e quindi dell'urbanizzazione e dell'antropizzazione e dipende anche dalla subsidenza che ha in questi anni via via interessato in maniera molto significativa tutto il territorio della provincia e quindi anche il territorio del centese. I canali che ricevono le acque dalle fognature della città di Cento sono stati così adeguati. Adeguamento che era necessario anche per contenere i livelli idraulici all'interno dei canali proprio in corrispondenza degli scarichi fognari per garantire che questi potessero scaricare con efficienza. Dunque il primo stralcio di interventi che abbiamo realizzato si è potuto realizzare grazie a una sinergia tra diversi enti che sono stati la Regione Emilia-Romagna che ha contribuito con 3 milioni di euro, il Comune stesso di Cento che ha contribuito in parte sul suo bilancio consorziale e in parte grazie al contributo ulteriore del Ministero dell'Ambiente per altri 2 milioni di euro. Nasce così un progetto da 15 milioni di euro di cui un primo stralcio già realizzato con la costruzione di due casse di espansione, due bacini, uno in via Ferrarese e l'altro Ponte Alto in grado con le piene di raccogliere le portate d'acqua dei canali, trattenerle e restituirle al consorzio dopo la piena. I nostri due interventi in particolare sono uno più piccolo, si tratta di una vasca interrata proprio in prossimità del centro urbano in via Ferrarese e via San Rocco e uno invece molto più ampio nell'immediata periferia settentrionale, una cassa a cielo aperto di cui vedremo alcune caratteristiche interessanti. La prima vasca, la vasca interrata, è già entrata in funzione diverse volte da quando nel 2016 è stata pronta e questo ci dimostra anche la bontà del nostro progetto, evidentemente ha risolto situazioni che in passato sicuramente avrebbero dato adito ad allagamenti anche in zone urbane. L'altra cassa di espansione ancora non è entrata in funzione a livello idraulico, evidentemente ancora non ci sono stati quei fenomeni atmosferici che possono chiamarla in causa, ma nell'ambito del progetto ci ha dato l'occasione per dare una duplice valenza al progetto di Cento, sia idraulica, che era quello che ci premeva, ma anche ambientale, perché ci ha permesso su un'area vasta in territorio agricolo di realizzare un ambiente, una zona rinaturalizzata con qualche proprietà anche di fitodepurazione delle acque che arrivano, che proveniendo da un abitato e dalle fognature di un abitato, hanno cariche inquinanti abbastanza importanti e soprattutto ci ha dato l'opportunità appunto di ricreare una zona che già oggi risulta per la cittadinanza un piacevole diversivo rispetto al territorio. Ponte Alto è sicuramente una struttura idraulica, però di particolare qualità perché ha delle funzioni polivalenti, quindi non soltanto una classica cassa di laminazione per accumulare volumi d'acqua importanti in momenti di crisi, ma anche un valore ambientale perché qui è stato costruito un sistema di fitodepurazione ed essendo anche in freggio la città in una posizione particolare, siamo anche in freggio agli algini del Reno e abitualmente in questa zona qui ci sono piste ciclabili, vediamo cittadini che pattinano, che passeggiano, creare quindi anche un punto, di fatto un parco urbano. Infatti in questa zona qui oggi ovviamente si presenta tra virgolette ancora un po' spoglia perché è stata interessata da un grosso intervento e la stiamo rinaturalizzando, ma il nostro alleato più importante è la natura stessa che posta in sicurezza sviluppa fauna, flora in modo significativo. Trovare soluzioni e reperire finanziamenti è il compito del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara che è già al lavoro per il secondo stralcio del progetto che prevede la realizzazione di ulteriori volumi di espansione nella zona a sud della città dove arrivano le acque dei territori alti del Bolognese. Questo pezzo è un pezzo importante di un progetto complessivo che prevede un impegno di circa 15 milioni di euro, è stato realizzato per un primo terzo, oggi ha avuto i finanziamenti da parte del Ministero tramite la Regione di un altro stralcio, praticamente un altro terzo, parliamo di altri 4 milioni e 800 mila euro, stiamo ovviamente portando a compimento l'approfondimento di idee progettuali. In questo caso stiamo pensando, contrariamente a quanto abbiamo fatto per la cassa di Ponte Alto che abbiamo completamente trasformato per darle anche una valenza ambientale, in questo caso pensiamo invece di lasciare le aree a servizio dell'agricoltura proprio e quindi di individuare zone magari più basse o che comunque andremo ad abbassare rispetto al terreno circostante in modo che siano preferibilmente allagabili rispetto ad altre, ma che di norma restino comunque disponibili per l'agricoltura e vengano interessate dagli allagamenti solo quando necessario. In questo ci aiuta anche un ampio studio condotto a livello regionale con l'Università di Bologna per valutare proprio l'entità degli indennizi da riconoscere ai proprietari per questa che si chiama in termini tecnici servitudi allagamento. Anche qui queste opere che noi presenteremo prevedono appunto di difendere la città da flussi di volumi d'acqua importanti e diversi. Non faremo una cosa analoga, non faremo un'altra cassa di laminazione tipo Ponte Alto con la fitotepurazione, ma cercheremo di costruire delle servitudi allagamento in modo che l'impatto sul territorio sia ancora più modesto, siano poco visibili e anche perché le zone dove noi le collocheremo hanno una valenza diversa rispetto a questo, quindi abbiamo dovuto fare degli adattamenti giusti. Grazie a tutti!